Chi è Elisabetta nella tua vita? Salve, sono Rita, sono messicana. Chi è madre Elisabetta nella mia vita? Io ho conosciuto madre Elisabetta venticinque anni fa, trenta anni fa, per essere esatta e nel momento in che io l'ho conosciuta per me è stato molto importante perché ho scoperto che, essendo una santa, tutte le sue parole, tutto il suo accompagnamento è sempre stato molto, molto vicino, molto semplice, che nelle mie difficoltà nella mia vita, come consacrata, sempre ho avuto una parola di aiuto, di venirmi incontro, di dirmi avanti, alzati, cammina, non indietreggiare la croce e per me questo è stato Io ho avuto una forte chiamata a dire sì, voglio continuare, voglio essere del Signore perché con le parole semplici, con le parole così maternale, così forti, lei ha saputo dare senso alla mia vita e le ringrazio perché mi ha aiutato a scoprire e mi continuo a scoprire che il Signore è amore, che il Signore mi ama così come sono, che il Signore non aspetta niente da me, soltanto che io mi innamore di Lui, ma soprattutto che io mi lascio innamorare di Lui e quindi madre Elisabetta è questo per me, la donna che ha saputo dire un sì lasciandosi amare del Signore e l'invito di che lei sempre me lo dice, lasciati amare, non avere paura, lasciati amare perché il Signore ti ama della mattina alla sera e dalla sera alla mattina e questo è per me madre Elisabetta, grazie per me madre Elisabetta è una donna speciale, una santa che come definisce il Papa è della porta accanto ricordiamoci che lei nel corso del 1800 durante gli anni della sua vita aveva quella passione di voler aiutare quelle poverelle, quelle fanciulle ignoranti sia dalla cultura ma soprattutto anche dalla fede e quindi andava accanto, andava a bussare, andava a raccogliere come fa Cristo con noi nella vita viene a chiamarci nei momenti soprattutto in cui meno ce lo aspettiamo o nei momenti più bui della nostra vita soltanto qualche anno fa quando ho finito e terminato gli studi presso il liceo delle Mestre Pie a Rimini ho sentito dentro di me di voler fare anche un resoconto della mia vita e di chiedere come mai ho avuto fino a quel tempo una bella e buona vita grazie anche a tutti i benefici che il Signore mi ha donato ogni giorno e io credo che madre Elisabetta ci abbia messo anche lo zampino credo che ha già tutto nel progetto del Signore io sono entrato dentro il plesso scolastico delle Mestre Pie e ho conosciuto la grande famiglia delle Mestre Pie da quando solo avevo tre anni nella scuola dell'infanzia e forse anche appunto per la volontà del Signore e anche per l'intercessione della nostra fondatrice e ho continuato gli studi nelle elementari, nelle medie fino a terminare col liceo e questa grande esperienza di studio, di vita anche, ma soprattutto di fede mi ha maturato molto e quindi devo chiedere solo un grazie sia al Signore ma anche alla nostra madre Elisabetta che per 16 lunghi anni mi ha custodito, mi ha protetto e mi ha accompagnato nel corso della mia vita uno dei suoi carismi è proprio quello dell'educazione in particolare l'educazione all'ignoranza della fede che io sottolineo spesso e che è il carisma che mi hanno sempre sottolineato maggiormente nella figura della madre e credo proprio che grazie a lei veramente ho maturato ancora di più la fede sia nella scuola che poi nella parrocchia e nella realtà di Occesano è anche grazie a lei che ho maturato l'idea di volere prendere parte al movimento Pralleluia il movimento laico della congregazione delle Mestre Piede della Dolorata dove insieme al gruppo dei simpatizzanti leggiamo, mettiamo in evidenza, seguiamo, facciamo riflessioni e analisi varie sulla figura anche della Beata e mettendone in pratica nella nostra realtà quotidiana in suoi insegnamenti una delle frasi più belle che ci ha lasciato la nostra madre Elisabetta quella che mi porta magari di più nel mio cuore è proprio io porto colui che mi porta ciò significa che io dentro il mio cuore, dentro la mia vita, dentro la mia quotidianità porto dentro di me il Signore il Signore risorto che è gli stesso poi mi porta dentro il suo cuore di amore, di misericordia mi dona tanti benefici certo ci sono anche tanti limiti, tante fatiche da superare ma confidando nel suo amore e nel suo conforto posso veramente portarlo con leggerezza sempre nel corso della mia vita per concludere, la nostra amare Elisabetta è proprio una figura santa da seguire mi sarebbe molto piaciuto partecipare a quel famoso 18 giugno del 1989 quando San Giovanni Paolo II, in quella chiesa pienissima di fedeli e di suore nella basilica di San Pietro, annunciò la beatificazione della nostra fondatrice una figura proprio da seguire i suoi piani erano diversi voleva entrare nel monastero a pietra rubia dalle clavisse però questo alla fine gli fu tolto questa concessione ma il Signore aveva grandi progetti per questa donna e ancora lei non lo sapeva e come per San Paolo che cade dal cavallo e da quella caduta cambiò totalmente la sua vita in nome di Cristo così anche per Elisabetta da quella sua caduta dal cavallo il suo orizzonte cambiò totalmente fino ad arrivare a istituire e a creare la nuova congregazione delle Mestre Piedra Dolorata una congregazione di suore che ancora al giorno d'oggi come due secoli fa andavano ad annunciare il Vangelo soprattutto ai ragazzi alle fanciulle che non avevano alcuna educazione ed erano ignoranti nella fede così anche oggi soprattutto sia in Italia ma anche all'estero questa missione non viene mai a meno nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto hai accresciuto in me la forza ti loderanno Signore tutti i re della terra quando udranno le parole della tua bocca canteranno le vie del Signore perché grande è la gloria del Signore non è la gloria del Signore